L'istituzione di un'assessorato alla musica per Padova, che sarebbe un'iniziativa inedita non solo per Padova ma anche per tutta Italia, quindi per dar voce a tutte le istanze di tutti gli appassionati, di tutti i musicisti e di tutti i frequentatori del mondo musicale padovano. Padova è una città la cui storia è legata a quella della musica, per questo tra i punti cruciali del programma della lista Alleanza per Padova, che sostiene il candidato sindaco Domenico Minasola, c'è un capitolo dedicato alla musica con l'istituzione di un assessorato ad hoc e un progetto per il nuovo auditorium. La seconda proposta è la costruzione finalmente di un auditorium unico e esclusivo per l'esibizione di gruppi di musica classica, jazz e pop e l'inserimento di Padova nel circolo UNESCO delle città creative, è un network fondato nel 2004 proprio dall'UNESCO a cui appartengono tutte le città creative che hanno fatto della musica soprattutto una forma di individuazione, di particolarità culturale proprio per lo sviluppo della città stessa.